L'ufficialità delle firme era attesa da anni e per il protocollo d'intesa che sancisce la destinazione della nuova questura negli spazi della caserma Cialdini è arrivato a Pesaro questa sera anche il ministro della difesa Lorenzo Guerini. Peccato però che il passaggio dalla sempre meno funzionale sede di via Giordano Bruno ad una sede geograficamente appropriata come la caserma Cialdini non sia andato giù ai sindacati di polizia. Marco Lanzi, Pierpaolo Frega e Luciana Comastri rispettivamente segretari di SIULP, SILP CGL e COISP dicono no ad una soluzione buona in teoria ma bocciata nella realtà delle carte e di atti che rivelano spazi ben più ridotti e inadeguati rispetto alle aspettative. C'eravamo illusi, ci avevano assicurato che sarebbe stata la soluzione ideale e noi di massima eravamo d'accordo ma se per una questura servono 7.000 metri quadri, queste sono le previsioni di tutti i tecnici su dei piani prestabiliti, come è possibile abbiamo scoperto, abbiamo assunto gli atti nel senso della 241, abbiamo visto che il protocollo che verrà firmato stasera allo stato attuale preve solo 4.000 metri quadri, quindi uno spazio assolutamente insufficiente per costruirvi una nuova questura. Una struttura che dalla planimetria sorgerebbe in due vecchi edifici inutilizzati dell'esercito dove oltre alla metratura ridotta degli spazi si registra anche una grave carenza di parcheggi, ma far sobbalzare ulteriormente dalla sede ai sindacati è soprattutto un comma del protocollo che recita come nell'impossibilità di poter ampliare gli spazi rispetto a quelli suggeriti solo parte degli uffici della questura sarebbero trasferiti in via della liberazione mentre altri resterebbero nei locali attuali affacciati a piazza del popolo. Uno spezzatino è una prospettiva di Andi Rivieni ritenuta irricevibile dai sindacati. Vogliamo fare la nuova questura, firmiamo un protocollo, ossia se troviamo i 7.000 metri quadri per fare la nuova questura si fa il protocollo e i lavori possono procedere, ma se quegli spazi non ci sono non si può firmare un protocollo del genere, per questo la nostra protesta dopo aver letto gli atti è così forte.